è il giorno della corsa di beneficenza madame gazzella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre papà pig se papà pig riesce a correre fino a qui quello è il supermercato e fino a qui è la stazione di servizio di mio nonno e arriva fino a questo punto qui è il castello ventoso allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola lo faccio immediatamente assolutamente pronti? ai posti? via ci sono riuscito adesso possiamo fare il picnic che papà buffone quello è soltanto un disegno certo adesso deve correre fino al vero castello ventoso pronto? al posto? via e via coraggio papà pig ce la puoi fare lo scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso adesso tutti possono godersi il picnic dell'acqua datemi dell'acqua ma che splendida calda giornata è un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi che non trovate? dell'acqua ho tanta sete papà pig ha raggiunto il supermercato tutto questo correre gli ha fatto venire una gran sete forza dai un'occhiata con il cannocchiale riesco a vedere papino con il cannocchiale si vede tutto più vicino non sta andando molto veloce papà pig è arrivato alla stazione di servizio di nonno cane basta non ce la faccio più papà si è fermato sembra molto accaldato ha bisogno di qualcosa che la rinfreschi e che le ridia energia ecco prendo un ghiacciolo la ringrazio nonno cane avanti a tutto vapore ciao ciao allora io sono il capitano di questa nave e quando il vostro capitano vi ordina di fare una cosa voi dovete obbedire si signor capitano si signor capitano polli pappagallo ripete tutto quello che viene detto George issa la bandiera George issa la bandiera Peppa suona la campana Peppa suona la campana nonnino posso fare io il capitano ti prego eh va bene ma dato che sei il capitano devi indossare questo cappello adesso è Peppa il capitano e tutti devono obbedire ai suoi ordini suona la campana gira quel timone si signor capitano Peppa e ora saltate su e giù il capitano Peppa è un po' agitato forse è meglio che torni ad essere io il capitano non vorrei rischiare di andare a sbattere da qualche parte governare una barca può essere molto pericoloso fortunatamente io sono un ottimo capitano oh no la barca di nonno pig è finita contro un isolotto nonno che disastro ci siamo incagliati adesso telefono a nonna pig lei ci verrà in aiuto nonno pig ha fatto cadere il telefono in acqua pronto sono nonna pig chi parla? pronto? pronto? dobbiamo assolutamente trovare un modo per mandare un messaggio a nonna pig messaggio a nonna pig polli potrebbe volare fino dalla nonna è un'idea grandiosa Peppa e io posso insegnare a polli che cosa dire dalla barca nonno pig dice dalla barca nonno pig dice aiuto 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 ecco Danny cane con il carro attrezzi arancione di nonno cane arancione ho vinto anch'io ciao ciao Danny ciao ciao Peppa arriva un'altra macchina ma è Susy ciao ciao Peppa giusto George è proprio blu quella macchina ora hai vinto tu oh questo gioco è bruttissimo non vedo neanche una macchina rossa non ce n'è nessuna sì che c'è una macchina rossa sulla strada dove? di che colore è la nostra macchina piccola mia? rossa! ho vinto ho vinto la famiglia pig è arrivata in montagna non immaginate che vista fantastica avremo una volta in cima siamo arrivati evviva guardate che meravigliosa giornata di sole oh no è cominciato a piovere ma dov'è la fantastica vista papà? eccola una fantastica vista la signora coniglio con il carretto dei gelati salve signora coniglio salve papà pig quattro gelati per favore di quale gusto li desidera? menta, arancia, fragola e mirtillo molte grazie signora ecco lei guardate che cosa ho qui i gelati e sono dei nostri colori preferiti proprio così il verde è per me l'arancione per me la fragola rossa è per me e quello di George è buuuu gnom gnom che buono guardate è ricomparso il sole e guardate cos'altro è comparso l'arcobaleno Peppa e George adorano l'arcobaleno l'arcobaleno compare soltanto quando ci sono la pioggia e il sole nello stesso momento oh com'è affascinante zitto vuoi stare zitto uccellino? non riusciamo a sentire la televisione no papà pig è una cosa assolutamente sbagliata non si può campeggiare e guardare la televisione questo si può fare a casa ehm sì hai ragione tu mamma pig ci sono tanti posti divertenti da visitare questo è il mondo degli alberi cos'è il mondo degli alberi? il mondo degli alberi è una grande foresta piena di alberi non mi sembra tanto divertente oppure c'è la città delle patate che cos'è la città delle patate? si fa un giro per i campi di patate che termina con un assaggino di patate sembra molto interessante o c'è il paese delle anatre cos'è il paese delle anatre? è un fiume immenso tutto pieno di anatre al paese delle anatre andiamo al paese delle anatre Peppa e George adorano le anatre come si fa ad andare al paese delle anatre? sarà il camper a guidarci dove volete andare oggi? paese delle anatre per favore procedere sempre dritto lungo la strada andiamo dalle anatre con un camper giallo benvenuti nel paese delle anatre buongiorno quanti biglietti prego? due adulti e due piccolini divertitevi con le anatre ma dove sono le anatre? forse sono andate in vacanza forza cominciamo a preparare il picnic le anatre si fanno sempre vedere quando quando noi facciamo i picnic Peppa e George adorano i picnic guardate arrivano le anatre fermo papà ci serve del pane per darlo alle anatre e va bene salve signora anatra arrivano altre anatre ci sono tutti i loro fratelli e le loro sorelle e quando è cominciata questa tosse? quando madame gazella ha iniziato a cantare non è assolutamente grave ma la tosse di Pedro potrebbe contagiare gli altri che cosa significa contagiare? quando a qualcuno viene la tosse a volte anche a chi gli è vicino viene la tosse devo prendere una medicina soltanto un cucchiaino di sciroppo purtroppo temo che non abbia un buon sapore sa di scarpa vecchia ripiena di marmellata la ringrazio dottor orso Bruno arrivederci arrivederci come immaginavo Pedro ha attaccato la tosse a tutti gli altri Danny cane e Susi pecora hanno preso la tosse da Pedro apri bene la bocca ha il sapore di uno yogurt al gusto di zerbino sporco di terra ha il sapore dei fiori di campo quando marciscono complimenti per aver preso senza protestare la medicina scusi dottor orso Bruno ma lei non si ammala mai no Peppa io non mi ammalo mai perché mangio una mela al giorno arrivederci arrivederci è ora di andare a casa i genitori sono venuti a prendere i figli mamma papà io ho tanta tosse il dottor orso Bruno è venuto qui a scuola e ci ha visitato ci ha dato una medicina cattivissima madame gazzella ora può cantare quella canzone naturalmente Peppa la bambola di polli è mala oh no tutti gli adulti hanno preso la tosse da Pedro sono il dottor orso Bruno chi parla? io sono Peppa Pig tutti i grandi si sono ammalati non ti preoccupare sto arrivando a Peppa ci 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 il treno va su e giù corre va corre va e presto arriverà attenzione queste sono le vostre schede gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono una barca un segnale ferroviario e una galleria io vedo tanti alberi ma quelli ci sono sulla scheda? ehm no io vedo le nuvole e le nuvole ci sono sulla scheda? no c'è nonno cane in barca sei la ragazzi buona giornata nonno cane ma nonno cane c'è sulla scheda? ma che dici Peppa? nonno cane non c'è sulla scheda non lo vedo è al timone di una barca però e la barca si che c'è sulla scheda urrà! tutti spuntano la barca sulla scheda biglietti per favore il signor coniglio controlla i biglietti ai passeggeri penso di aver perso il mio biglietto oh ma che sfortuna il tuo biglietto è qui sul sedile Pedro ti ci hai riseduto sopra mi raccomando non perderlo di nuovo Pedro Pony il treno sale lentamente sulla collina il treno scende rapidamente dalla collina signora maestra mi scusi non mi sento bene posso sedermi davanti per favore ma certo Pedro puoi sistemarti vicino al macchinista dun da dun 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 buongiorno Pedro Pony che c'è non ti senti bene poverino ti andrebbe di guidare il treno per un po' sì grazie ma stavolta papà pig ha dimenticato di restituire il libro l'ho tenuto per un lungo lungo periodo non importa lo potrai restituire domani ma adesso tutti a nanna dopo che papi non ci averà letto quella storia non è esattamente una storia piccola mia per favore leggicela comunque e va bene il meraviglioso mondo del calcestruzzo il calcestruzzo è un materiale usato per le costruzioni composto da sabbia da acqua e da una miscela chimica capitolo primo la sabbia Peppa, George e mamma pig si sono addormentati è mattina Peppa e la sua famiglia arrivano in biblioteca accipicchia ma qui ci sono un sacco di libri Peppa bisogna fare silenzio quando si è in biblioteca perché? perché le persone vengono qui apposta per leggere e vogliono il silenzio il prossimo, prego la bibliotecaria è la signora coniglio buongiorno mamma pig è venuta a restituire quei libri? esatto signora coniglio ha fatto bene perché il computer sta facendo quel suono? sta controllando che non abbiate fatto i briconcelli e tenuto i libri troppo a lungo forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo non si preoccupi papà pig non sarà poi così grave perbacco papà pig ha tenuto questo libro per ben dieci anni papà distrattone scusi signora coniglio non ha importanza adesso può scegliere un altro libro signora coniglio Giorgio e io possiamo prendere in prestito un libro per favore certo il settore per i bambini è a vostra disposizione guarda il mondo delle fate, tutti i fiori, come fare i vestitini ciao Peppa Pig ciao ciao Danny ecco il museo buongiorno signori bravi siete venuti a vedere la luna? sì signora coniglio cinque biglietti per favore ecco a voi prego vi auguro un favoloso viaggio sulla luna che cosa? ma allora ci stiamo andando veramente sulla luna? ma no Peppa sarà soltanto per finta venite con me stiamo per andare sulla luna il signor coniglio farà da guida preparatevi al grande lancio ma noi ci stiamo andando per finta, vero? proprio così Peppa ci stiamo andando per finta cinque quattro tre due uno lancio noi viviamo su un pianeta qualcuno sa dirmi come si chiama la terra proprio così, bravo sono discretamente esperto di faccende spaziali ci sono altri sette pianeti che girano intorno al nostro sole qualcuno di voi sa dire come si chiamano? ehm mercurio molto bravo Edmond venere, Marte, Giove, Saturno, Mettuno e Urano Edmond sa tutto dello spazio sono un elefante saputello qualcuno sa di cosa sono fatti tutti questi pianeti? sì io sono fatti di cartone questi modelli sono fatti di cartone ma i pianeti veri invece sono fatti di roccia, di ghiaccio e di gas però la luna è fatta di formaggio groviera no, anche la luna è fatta di roccia e questa è una gita molto seria quindi non voglio battute e men che meno risaltine eccoci arrivati siamo sulla luna ma questa luna è finta, vero signor coniglio? è per gioco certo se ci trovassimo sulla luna vera adesso potresti saltarmi sulla testa qualcuno mi sa dire perché potremmo saltare così in alto se fossimo sulla luna? per la gravità proprio così Edmond la gravità è la forza che ci fa stare con i piedi per terra ed è più debole sulla luna così saltiamo più in alto siete tutti pronti per andare in vacanza? sì mamma Pink e allora via ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo questa cartina è un po' complicata papà cerchiamo di non perderci per favore non ti preoccupare Peppa sono esperto nel leggere le cartine questo sì che è strano ci siamo persi? proprio così arriva nonno cane con il nipotino Danny ciao Peppa oh ciao Danny ci siamo persi persi? vi si è rotto il navigatore? come il navigatore? certo quello che lei sta guidando è un camper 320 è un modello col navigatore di serie benvenuti nella macchina del futuro ah ecco a che cosa serviva quel pulsante dove volete andare oggi? ma papino il camper sta parlando ingegnoso vero? la voce del computer aiuta a trovare la strada ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? le lo indichi tu ehm buongiorno signora voce del camper buongiorno noi stiamo andando in vacanza ci può dire la strada? procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo grazie per l'aiuto nonno cane non c'è di che divertitevi in vacanza ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo pericolo, pericolo il livello dell'olio è basso cos'è l'olio? l'olio aiuta il motore a girare senza difficoltà e se il livello è basso vuol dire che sta per finire? no, questi allarmi ti avvisano sempre con largo anticipo l'olio è terminato oh cielo Danny cane è il primo cliente buongiorno, come va venditore? buongiorno signor cane posso avere un po' di biscotti per favore? Susi, ci sono rimasti ancora dei biscotti? no, però abbiamo un telefono giocattolo e quanto costa questo telefono? è molto bello, costa 100 euro signor cane molte grazie il prossimo prego buongiorno venditore potrei avere un filone di pane per favore? no, però abbiamo una casa giocattolo gliela metto in un sacchetto signore? sì, grazie il costo della casa è di un euro, prego oh, mi dispiace, non ho portato i soldi può pagare la prossima volta che viene oggi picchia, è proprio un lavoro duro eh già buongiorno venditore che cosa posso comprare con mille milioni di euro per favore? Susi, che cosa abbiamo in negozio che costa mille milioni di euro? una carota sì, va bene Rebecca coniglio adora le carote è ora di tornare a casa papà Pig è venuto a prendere Peppa e Susi papà hai avuto una giornata faticosa? sì, ho lavorato moltissimo Peppa anche noi due all'asilo abbiamo lavorato moltissimo è vero, abbiamo fatto i venditori, che fatica bla 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 abbiamo finito e ora stampiamo mamma Pig ha terminato di lavorare ecco qua, Giorgia forse adesso possiamo fare una partita gallinella felice ce la siamo proprio meritata papà, ti posso aiutare? sì, grazie Peppa puoi buttare tutte queste bucce delle verdure va bene ferma Peppa le bucce delle verdure non vanno nel secchio normale vanno in quel secchio là, quello marrone oh, nonna proprio così George quella è una buccia di banana e lì dentro ci sono anche cipolle, carote e tutti gli avanzi di ogni tipo di frutta e verdura il nonno e la nonna ne saranno felici perché a nonno Pig e a nonna Pig piace mangiare le bucce delle verdure no, Peppa sono per il giardino del nonno aiutano le piante a crescere bene potremmo portargliele subito dopo pranzo oh, che bello mamma Pig, Peppa e George portano le bucce delle verdure a casa di nonno e nonna Pig siamo arrivati evviva nonno Pig abbiamo portato un regalo specialissimo per te oh, ma quante bucce di verdura che cosa fantastica al mio giardino piaceranno moltissimo perché il tuo giardino mangia le verdure, nonno niente affatto, Peppa tutte queste bucce andranno a finire nel mio mucchio di concime organico oh, e che cos'è? adesso ti faccio vedere eccolo qui ma questa è una scatola di legno esatto, Peppa ma questa è una scatola di legno molto intelligente metto tutte queste bucce qui in cima e dal fondo si vedrà uscire una deliziosa terra molto ricca chiamata concime organico e come fa a farlo? è una scatola magica per caso? no, cara Peppa ho tanti piccoli amici che le danno una mano in questo lavoro dove? sono qui dentro guarda ci sono tanti vermi vermi, vermi è un gioco pericoloso questo? no, Pedro Pony nonno cane mi ha garantito personalmente che non correrete alcun rischio state pure tranquilli ma sarà divertentissimo chi vuole giocare con me? io! questo è il nostro piano un tempo avevo un forziere d'oro che era mio di diritto ma mi è stato vilmente sgraffignato da quel maramaldo di Capitan Hog cosa? il gergo dei pirati è difficile da capire Capitan Hog ha rubato il mio tesoro tutti sanno che Capitan Hog è un terrificante pirata qualcuno di voi probabilmente lo conosce col nome di battaglia nonno pig ah, nonno pig i partecipanti dovranno trovare il nascondiglio di Capitan Hog e riportarmi il tesoro senza essere acciuffati urrà! sono tutti contenti all'idea di giocare ai pirati buongiorno nonno pig stiamo per arrivare caramba amico caramba amico nonno pig e polli il pappagallo fanno la guardia al tesoro del pirata avanti ciur maglia salite a bordo della tortuga e vento in poppa ma cosa dici non capisco correte alla nave iooo bene ragazzi mettete i giubbotti salvagente sulla barca di nonno cane devono tutti indossare i giubbotti salvagente quel gran filibustiere d'un barba bianca dovrebbe essere qui a momenti una bella tazza di tè per nonno pig prego molte grazie nonna pig finalmente siamo pronti ciur maglia signor barba bianca io dovrei andare urgentemente in bagno posso? anch'io 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 dinosaurio dinosaurio ciao Richard torno a prenderti tra un po' divertiti piccolo mio George e Richard Coniglio sono amici del cuore George Richard fermi guardate avete buttato giù tutto non potete giocare senza far tremare il pavimento George trasforma il cesto dei giocattoli in un vulcano Richard usa gli alberi giocattolo per creare una giungla George usa i cubi dell'alfabeto per fare un fiume dinosaurio George e Richard hanno trasformato la stanza nella terra dei dinosauri io me ne vado basta voi fate troppo chiaro io dico patato io dico patata patato patata il lato positivo delle giornate piovose è che possiamo guardare degli istruttivi programmi in tv patato patata patato patata Giorgio e Richard hanno trasformato la nostra camera nella terra dei dinosauri e la terra dei dinosauri purtroppo è rumorosissima Giorgio ha fatto venire il suo amico del cuore invece io non ho nessuno con cui giocare potresti chiedere a Susy Pecora di venire da te Susy Pecora è la migliore amica di Peppa davvero Susy Pecora può venire a casa nostra? proviamo a chiamarla patato 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 pronto? sono Susy Pecora chi è? ciao Susy sono Peppa potresti venire a casa mia adesso? certo Peppa posso mettermi il camice da infermiera? sì ma vieni più in fretta che puoi che ne dite di una tazza di tè e quattro chiacchiere? sarebbe molto gradevole c'è anche il telefono Peppa quello è il telefono delle emergenze si deve usare soltanto quando c'è un incendio ahhh al fuoco! al fuoco! qui è la casarma dei pompieri dov'è l'incendio? dov'è l'incendio? posso parlare con mamma pig per favore? oh è papà pig papà pig non dovresti chiamare questo numero è un telefono che serve solo per le emergenze ma questa è un'emergenza ho provato a cercare il ketchup dappertutto non riesco a trovarlo papà pig posso accendere il barbecue adesso? sì fai pure signor coniglio fa molta attenzione col barbecue papà pig fidati mamma pig noi papà sappiamo tutto a proposito dei barbecue ciao forse serve dell'altra carbonella proviamo a soffiarci un po' sopra secondo me c'è bisogno di usare degli altri fiammiferi e adesso non ci resta che aspettare un incendio e quanto tempo dobbiamo aspettare? potrebbe volerci chissà quanto io sto aspettando già da anni quanti incendi ha spento fino ad oggi signora coniglio? eh nessuno neanche un solo incendio ma bisogna tenersi pronti suona il telefono delle emergenze vuoi rispondere tu Peppa? probabilmente di nuovo il tuo papà va bene si pronto qui la caserma dei pompieri ciao Peppa oh papà ancora tu? sei davvero disobbediente questo telefono serve soltanto per gli incendi puoi passarmi la signora coniglio per favore fa la brava Peppa il mio papà ha detto che vuole parlare con lei pronto papà pig? questo telefono deve essere usato soltanto quando c'è un... incendio! oh no il barbecue di papà pig è andato a fuoco al fuoco! al fuoco! mamma è a salvataggio tenetevi forte mamma è a salvataggio mamma è a salvataggio e papà neanche saprà che si era sporcata di fango cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice oh anche il mio vestito si è un po' sporcato mamma pig e George hanno trovato altre cose da lavare molto bravo George mettiamo i panni in lavatrice e poi l'accendiamo la lavatrice si riempie di acqua calda saponata splash 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 la lavatrice fa tremare tutta la cucina oh Peppa dov'è il tuo vestito? è lì dentro si sta lavando cosa? oh no guarda bambina ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito è vero Peppa ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto oh cielo il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio oh papà pig è tornato dal lavoro buon pomeriggio a tutti ciao papino papà pig abbiamo un piccolo problema dimmelo dopo mamma pig adesso mi devo preparare per la partita dov'è la mia maglietta da calcio? eccola non essere sciocchina Peppa questo è uno dei vestiti della mamma è rosa non è così papà questa è la tua maglietta da calcio si era un po' sporcata di fango così l'abbiamo lavata ma purtroppo gli altri panni hanno stinto vi mostro la stanza dove dormirete stanotte questa è la cameretta della mamma quando era piccolina come voi tanto tanto tempo fa e questo è il lettino dove dormiva tutte le notti uuuu il letto con le molle siete proprio come la vostra mamma quando era piccola anche la mamma faceva i salti sul letto certo come no ma la mamma ci sgrida sempre quando iniziamo a saltare sul letto quando la mamma aveva la vostra età era birichina proprio come voi davvero? si e adesso andiamo a fare due chiacchiere con nonno pig in giardino ciao nonno pig ciao nonno pig buongiorno Peppa buongiorno George venite a vedere le mie belle carotine nonno pig è molto fiero dei suoi ortaggi e da questa parte i miei pisellini ma la verdura migliore è la lattughina verde oh no la mia lattughina verde sai nonnino credo proprio che quegli uccellini se la siano mangiata si pennuti come mai il tuo spaventapasseri non ha riuscito a spaventarli perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto sono troppo intelligenti per spaventarsi che cosa blatteri nonno pig? i tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto amici? quali amici? Tom, Dick e Harrison ma no non si chiamano così nonna pig ha delle gallinelle carine allora vi presento Giuditta, Sara e Vanessa tesorucci ciao e lui si chiama Neville Neville è una gallina maschio vero nonna? si Peppa ma si dice galletto è proprio un cattivone ha distrutto lui tutte le mie verdure Neville non farebbe male a una mosca sai benissimo che se le mangiano le mosche oh no è un po' troppo alto per George non ti preoccupare George arrivo ti raggiungo subito un altro euro per favore a George la paura è passata oh quanto è alto ho le vertigini quasi quasi scendo dalle scale ma non può le scale sono affollate si deve scendere dallo scivolo papà pig oh ok ora Joe venite a divertirvi fate centro e vincerete un gigantesco peluche guardate tu sei brava a fare centro vero? ma non ci serve un altro peluche gigante Peppa non si preoccupi non vincerà mamma pig tutte le donne hanno una pessima mira può ripetere non ho sentito in questo gioco ci vuole abilità e quanto costa tirare una freccia? un euro mamma pig ha fatto centro ma è incredibile ecco il vostro gigantesco peluche evviva voglio un peluche gigante come quello mammina ma sono troppo grossi no non è vero papà pig e George sono sulla ruota panoramica tenetevi forte va veramente molto in alto sono contento che sia finita un euro da diritto a cinque giri completi cinque giri completi oh no wow coraggio fatevi avanti gente misurate la vostra forza con il buon vecchio gioco del martello e della campana che cosa dobbiamo fare? dovete colpire questo pulsante rosso con il martello se suona la campana vincerete un bel premio guardate non ci vuole solo abilità bisogna essere forti e possenti io ci voglio provare un euro per favore sì c'è un guasto per questo dobbiamo riparare la strada secondo lei ci vorrà molto? penso che ci vorrà il tempo che ci vuole né più né meno cavatice! cavatice! a George piacciono le scavatrici da questa parte signor rinoceronte ok capo il capo cantiere signor toro da dove viene tutta l'acqua che esce dal buco? viene da una tubatura sotterranea rotta tanto tanto in profondità come pensate di ripararla? scavando una buca grossissima bello! chiudiamo la valvola dell'acqua Giorgio adora le gru lagù! lagù! togliamo la tubatura vecchia e arrugginita e ne mettiamo una nuova di zecca la ringraziamo per averci mostrato il suo lavoro non c'è di che mamma pig ciao e arrivederci presto oh no! Giorgio non vorrebbe andarsene non piangere stiamo per arrivare al parco giochi potrai giocare con le scavatrici e le gru nel recinto di sabbia e ripasseremo a salutare il signor toro quando torneremo indietro la famiglia di Peppa arriva al parco giochi buongiorno amici miei ciao Peppa Edmond e Richard giocano nel recinto di sabbia giochiamo nel recinto di sabbia ok perché? che problema c'è? come vedete ci sono dei lavori in corso e io sono il capo cantiere brum brum per dinderindina questo enorme baule è tutto per delfin sì, delfin si è portata qualche cosetta per questo soggiorno cose che qui voi non avete formaggio, pane, pomodori e dell'acqua oh, guarda delfin tornerò a riprenderti domani sera dove metto il bagaglio di delfin? in camera mia, in cima alle scale, il punto più alto della casa oh quanto pesa, ma serve per una notte sola oh sì è proprio per questa ragione che ho portato un bagaglio così piccolo oh allora, delfin è qui per esercitarsi nella nostra lingua quindi noi la dobbiamo aiutare certo, mammina prima di tutto mi devo scusare io non parlo molto bene la vostra lingua non mi sembra che parli poi così male lei è molto gentile, Monsieur Pig ma posso farle solamente una piccola domanda riguardo all'italiano? ma è naturale chiedi pure, io sono un esperto ti ascolto, delfin la forma passiva dei vostri verbi richiede sempre l'utilizzo dell'ausiliare? oppure facoltativo? eeeh... si è fatto terribilmente tardi dobbiamo preparare il letto per delfin mammina, mammina delfin può dormire nel mio stesso letto ci mettiamo una da un verso e una dall'altro ottima idea, Peppa Peppa e delfin dormiranno insieme nello stesso letto ora piccole, cercate di dormire vi aspetta una giornata impegnativa perché domani delfin verrà nel tuo asilo bellissimo dorme bien dorme bien in francese vuol dire dormite bene io non ho per niente sonno allora ti canto una canzoncina per farti addormentare? si frere Jacques, frere Jacques dorme vu, dorme vu Nonna Pig! Nonna Pig! salve tesorini miei scusate tanto, tornate a dormire raccontaci una favola nonna va bene ma solo se mi promettete che poi farete la nanna senza capricci ci addormenteremo appena avrai finito di raccontarcela d'accordo tanto tempo fa viveva un puledro di nome Pedro Pony che aveva trovato un fagiolo magico oh sì decise di piantarlo e crebbe fino a diventare una pianta di fagioli enorme alta fino al cielo che bello Pedro scalò il fusto di quella pianta e su in cima trovò un orribile mastodontico gigante ma a me non piacciono i giganti a me piacciono le principesse ah certo su in cima trovò la bellissima principessa Peppa e Sir George il prode cavaliere e una cuoca che sapeva cucinare le torte più buone del mondo mamma Pig papà Pig e nonno Pig sono pronti per cenare vado a vedere cosa trattiene nonna Pig di sopra e poi cosa succede alla principessa che briccona nonna Pig non li hai fatti ancora addormentare no ma le abbiamo promesso che ci addormenteremo quando la favola sarà finita sono molto bravo a trovare dei finali nonna Pig tu vai a tavola non ci metterò molto c'era un puledro una pianta di fagioli una bella principessa un cavaliere coraggioso e una cuoca che preparava dei dolci deliziosi bene appena finito di cenare caddero in un sonno profondo fine della storia all'improvviso si svegliarono e arrivò un potente mago potente mago? si un mago che mise in scena un bellissimo spettacolo di magia ah si ma... a questo punto della favola arriva un terrificante drago ah arriva il signor patato per favore un bel urrà per il vostro caro vecchio amico signor patato urrà vero? è una patata davvero enorme dichiaro ufficialmente aperto il centro sportivo bene ragazzi dobbiamo tutti fare esercizio fisico e mangiare tanta tanta frutta e verdura quale frutta e verdura dovremmo mangiare signor patato? mele, arance, carote, pomodori rossi e le patate no come mai non sei piccolo come tutte le patate del mondo? perché lui non è affatto una patata come tutte le altre non vedi? ha persino le gambe sì, le patate normali non hanno né braccia né gambe è una super patata lui noi guardiamo il suo programma in tv tutte le mattine molto bravi! e ricordatevi di mandarmi i vostri disegni va bene Peppa e i suoi amici sono all'asilo attenzione! oggi faremo un bellissimo disegno da mandare al signor patato urrà! io disegno un ananas grosso grosso io invece disegno una carota molto bene e tu che cosa disegni Emily? un pisellino magnifico! e Pedro? una super patata maestra che bravo! e il nostro Giorgio ha disegnato uno splendido pomodoro Peppa, tu invece che cosa hai disegnato stamattina? mio padre che guarda la televisione seduto in poltrona che brava! dunque ora mettiamo tutti i vostri disegni in questa grande busta e li spediamo al signor patato è mattina e sta per andare in onda la trasmissione del signor patato signori un bell'applauso per un vostro vecchio amico il signor patato sono brava a saltare sono brava a cantare brilla, brilla, stella in ciel e so anche ballare è difficile scegliere un talento solo quando si sanno fare tutte queste cose non ti preoccupare potrai decidere domani stessa va bene è la giornata del talento io sono brava a saltare sono brava a cantare e anche a ballare mi sono esercitata fino a tardi ieri sera anche io mi sono esercitata a vedere la televisione ieri sera ma questo non è un vero talento almeno la maestra ha detto che non lo è che posso fare allora? chi vuole mostrare per primo il suo talento ai suoi compagni? Danny Cane? io so suonare il tamburo posso suonarlo ancora più forte? no, sei stato bravissimo Danny avanti Pedro Pony in che cosa hai talento? nei giacchi di prestigio dunque qui abbiamo un bicchiere d'acqua attenzione si vede attraverso oh e ora con una piccola magia segreta farò scomparire l'acqua oh per favore chiuditi gli occhi prego aprite gli occhi oh l'acqua è scomparsa mille grazie Emily elefante farà una suonata per flauto dolce dici Rebecca qual è il tuo talento? io so fare un verso particolare ma funziona solamente se mi metto sulla punta dei piedi è stata molto brava Rebecca sì ma io che cosa posso fare? Candy tu in che cosa hai talento? nel salto ma volevo anch'io saltare alla corda wiii ma nonno Giorgio è piccolino eppure è rimasto in fila come tutti noi ah sì anche lui è ancora piccolino e quindi non è giusto che stia in fila ad aspettare wiii oh no Richard e George si sono impadroniti dello scivolo nonno quando riusciremo a giocare anche noi sullo scivolo oh non ti preoccupare Peppa vedrai che i piccolini si stancheranno presto io però mi ho mai ad aspettare anch'io che ne dici di andare sull'altalena? ma c'è Pedro Pony sull'altalena Pedro fai salire me adesso dai vorrei giocarci ancora un po' io aspetta il tuo turno ma sono secoli che stai su quell'altalena scendi ti prego nonno Pig potresti darmi qualche spinta per favore credo che dovresti lasciare il posto a uno dei tuoi compagni Pedro Pony ma io fra poco devo ritornare a casa oh beh capisco allora è diverso vengo a darti qualche spinta nonnino basta sono stanca di aspettare anch'io venite amici andiamo sulla giostra tutti vogliono salire sulla giostra è pericoloso andare in troppi su quella giostra scendete immediatamente ma nonno Pig io sono arrivata qui per prima beh in questo caso tu puoi risalire sulla giostra anch'io posso risalire però non capisco perché dici questo Rebecca perché fra pochi giorni sarà il mio compleanno va bene anch'io anch'io d'accordo siete tutte pronte signorine? sì fermi tutti così sulla giostra non c'è neppure un maschietto ehm allora siete tutti pronti possiamo cominciare le dieci urrà quanti biglietti servono? un biglietto per la mamma e due per i piccolini e anche per Goldy grazie autista il pesciolino viaggia gratis tenetevi forte il signor Toro sta aspettando l'autobus un biglietto per il negozio di strumenti musicali per favore buongiorno signor Toro come sta? stiamo portando Goldy dalla dottoressa Amster oh mi dispiace non ti senti tanto bene sei malata Goldy? non le può rispondere è un pesce ah già che sciocco sono magari sentire un po' di note della tuba potrebbero allegrarla che buffo suono bravo è vero sto andando nel negozio di strumenti musicali per farla riparare oh la signora pecora la signora gatto il signor zebra e madame gazzella salgono sull'autobus buongiorno quattro biglietti per il supermercato per favore buongiorno madame gazzella stiamo portando questo pesciolino dal veterinario si sente poco bene poverino eh sì ma le sta sorridendo girano le ruote della corriera girano girano domani a sera girano le ruote della corriera fra poco arriverò supermercato ciao strumenti musicali arrivederci capolinea il medico veterinario il veterinario aiuta gli animali malati a guarire oh è questo il pesciolino triste che non vuole mangiare sì guardi anche lei a Rebecca Coniglio, Zoe Zebra, Susy Pecora e Peppa piace saltare mi piace la sabbia mi piace il mare e insieme a Susy mi piace saltare mi piace cantare mi piace cantare mi piace giocare insieme a Zoe mi piace saltare ideona vediamo chi di noi riesce a saltare più a lungo senza fermarsi conto io uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci sì ha vinto Zoe urrà 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 sei qui Pedro ti vedi saltare un po' insieme a noi no grazie Peppa sto giocando con l'ula hop ula hop ula hop uno due tre ula hop ula hop uno due tre oh quanti giri riesci a farli fare senza fermarti un milione e trenta tre bravo sono un bel po' allora contiamoli in coro uno due tre quattro cinque sei sette otto ne hai fatti solo otto sì perché sono un po' stanco quelli che mancano li farò più tardi tu sai giocare con l'ula hop Emily sì ma ho un mio stile personale Emily fa girare l'ula hop con la sua proboscide urrà secondo me tu ne hai fatti per lo meno cento Emily George vuole giocare a saltacavallo a George piace giocare a saltacavallo giochiamo tutti a saltacavallo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci mamma pig abbiamo un ospite speciale che stasera rimane a dormire da noi veramente e chi è? è teddy cuore d'oro ha un pigiamino azzurro un album di fotografie e uno spazzolino da denti a cosa serve l'album fotografico? dobbiamo riprendere teddy cuore d'oro nei momenti più emozionanti della giornata i miei compagni di scuola hanno portato teddy cuore d'oro in giro per tutto il mondo londra parigi l'egitto però questo teddy cuore d'oro ha una vita molto emozionante spero proprio che si diverta nella nostra famiglia pepe e george vanno a nanna signore e signori vi presento teddy cuore d'oro ciao ciao è il nostro ospite speciale e questa sera dovrete fargli spazio quello è il dinosauro di george ringhia molto ma non sa dire una parola facciamo una foto per l'album di teddy cuore d'oro ragazzi sorrisone sorrisone papà vorrei tanto che teddy cuore d'oro domani avesse una giornata tanto tanto emozionante perché non andiamo tutti al polo nord e se invece andassimo al supermercato sì non credo proprio che teddy cuore d'oro sia mai andato a fare la spesa finora è mattina peppa va al supermercato con teddy cuore d'oro questo negozio vende tante cose buone ci sono arance mele frutta esotica bello è un posto molto interessante questa è la cassa dove si paga tutto quello che si vuole acquistare george vuole scattare una foto ho capito george sorrisone 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 non sorrisone 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 Grazie a tutti.